Questo bando consente all'amministrazione di soddisfare le esigenze degli inquilini, degli alloggi comunali che hanno manifestato la loro richiesta di cambiare abitazione. L'amministrazione a tal proposito ha messo a disposizione 30 alloggi che potranno essere favoriti attraverso un bando che è stato aperto il 24 giugno e che sarà disponibile fino al 30 agosto. La giunta comunale ha ritenuto opportuno individuare una serie di criteri quali condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi, la difficoltà da parte degli inquilini nel corrispondere al canone di locazione e soprattutto la necessità di avvicinarsi a parenti o strutture sanitarie che possono utilizzare l'inquilino nella gestione della propria vita quotidiana. In questo periodo di crisi avete avuto molte domande per gli alloggi pure no, un aumento? Per quanto concerne il cambio alloggi sono state presentate circa 90 domande. Chi potrà fare richiesta? Potranno fare richiesta tutti coloro che sono attualmente inquilini degli alloggi comunali e che sono in regola con il pagamento del canone di affitto.